buongiorno a tutti allora 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 tornano è tutta la settimana che faccio il salto della notizia quindi tornano le call news due bei video di call news poi appena riuscirò e cercherò di vedere le gare motociclistiche automobilistiche che si stanno svolgendo in questi giorni con calma il gigione fa tutto adesso appena finisce il campionato che abbiamo due settimane di tranquillità prima che inizi l'europeo e poi anche la coppa america vedo di fare un po più di call news un po di più notizie sulla formula 1 eccetera qualche notizia di mercato se c'è qualcosa di importante dovremmo parlare anche del buon lautaro ma aspetto le conferme ma di che cosa parleremo in questo video allora parleremo della luna di giove perché nel dicembre del 2022 poi parleremo della mongolia e la paleontologia questa connubio mongolia paleontologia che fa libidine perché la mongolia c'è tanta roba c'è tanta roba c'è tanta roba che fa godere i paleontologi 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 quello che è comunque ci siamo capiti poi staremo ancora a parlare di paleontologia di un di una collana una collana da libidine scoperta in inghilterra e infine parleremo di un papa di un papa che è stato anche reso famoso da da dante che ha fatto una determinata cosa e quindi parleremo anche di questo papa torneremo indietro di ben 700 anni abbondanti ma iniziamo ragazzoli perché c'è questa immagine l'immagine infrarossa della luna di giove è stata scatturata nel luglio del 2022 però la notizia del dicembre 2022 a una distanza di circa 80 mila chilometri durante la sua missione scusate il bronco di riace che ogni tanto deve rompere i testi dicevamo durante la sua missione la sonda spaziale iuno della nasa ha catturato un'immagine infrarossi della luna di giove che si chiama io con il suo imager giram che sarebbe invia gli ovian infrarred auroral mapper nell'immagine catturata appunto lo scorso luglio a una distanza di circa 80 mila chilometri e che hanno fatto vedere qualche giorno dopo ma qua la notizia mi è arrivata a dicembre del 2022 tramite penso scienze notizie la superficie carica di vulcani della luna possono essere notati come punti di rosso vivo che sporgono dallo sfondo scuro la nasa considera io quindi la luna di giove netta io il luogo con la maggiore attività vulcanica del sistema solare quindi la nasa secondo questa teoria ha mostrato il corpo celeste più vulcanico del sistema solare ma state tranquilli che proseguendo proseguendo perché i vari satelliti satelliti buonanotte anche i satelliti che sono in giro per per lo spazio in solitaria perché purtroppo non siamo ancora ai tempi dell'enterprise di star trek o di spazio 1999 quindi per ora mandano in giro delle sonde a curiosare finché resistono e a mandarci immagini in più ci sono anche i telescopi enormi giganteschi che riescono ad andare oltre la via lattea oltre 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 e a scoprire sempre nuovi il problema è che li scoprono a chilometri chilometri ma cosa dico chilometri fanta chilometri che quindi è impossibile raggiunge fanno i calcoli allora quella lì e lì ci vorrebbe otto mesi nove mesi o dodici mesi per raggiungerla e capite che non è che ti puoi portare dodici mesi di cibo nella navicella tenendo conto che se succede qualcosa ciao ciao sei nello spazio sei fottuto in più quindi per cui quando noi non ci saremo più forse forse se non ci ammazziamo prima perché qua si è sempre sul chi va là che qualcuno schiacci il bottone facciamo boom senza manco accorgere ma proseguiamo con la notizia il team è molto entusiasta del fatto che la missione stesa di uno è stato incluso lo studio delle lune di giove con ogni sorvolo ravvicinato siamo stati in grado di ottenere una grande quantità di nuove informazioni queste le parole del ricercatore principale della missione scott bolton che ha aggiunto i sensori i sensori uno sono progettati per studiare giove ma siamo soddisfatti quando riescono ad osservare anche i satelliti nel corso del prossimo anno e mezzo quindi vuol dire 2023 e quindi siamo quasi alla fine perché questa è una notizia di dicembre 2022 anno e mezzo vuol dire che questo mese potrebbe essere l'ultimo mese in cui giuno è lì che gironzola per giove i suoi satelliti a fare il curiosone diciamo così dicevamo nel corso del prossimo anno e mezzo ma quindi vuol dire che ormai siamo quasi alla fine gli scienziati di uno utilizzeranno questi approcci ma quindi devo dire hanno utilizzato questi approcci iniziati nuovamente il 15 dicembre del 2022 come dicevamo per condurre la prima campagna di nove sorvoli di monitoraggio ad alta risoluzione di io due dei quali da soli 1500 chilometri di distanza durante questi flyby verranno studiati i vulcani e il modo in cui le eruzioni interagiscono con la potente magnetosfera e l'aurora di giove quindi probabilmente ragazzoli nei prossimi mesi perché sicuramente uscenze notizie o focus queste cose ci piacciono e mi raguagli diciamo che mi tengono aggiornato ecco ho fatto come la marchesini quando non si accomodi entrino pure ecco e ho fatto la stessa cosa comunque ragazzoli vedremo perché probabilmente parleremo ancora di giove della luna io di giove eccetera eccetera perché i uno c'è un anno e mezzo da raccontare ancora quindi è probabile che ne parleremo ancora sempre notizia del dicembre 2022 parliamo della mongolia la mongolia uno degli scrigni paleontologici più ricchi del mondo che non smette di regalarci resti di creature estinte dinosauri in particolare l'ultimo in ordine di tempo si fa per dire perché la notizia di un anno e mezzo fa arriva dalla formazione baron goiot nel deserto dei gobi formato si circa 72 milioni di anni fa e brulicante di uccelli piccoli mammiferi e appunto dinosauri la nuova scoperta si chiama nato venator polidontus nato venator polidontus va un nome non esageratamente incasinato ecco e non istante assomigliasse a un pinguino nell'aspetto e anche nelle abitudini non appartiene allo stesso gruppo di dinosauri da cui sono derivati gli uccelli il fossile è stato descritto in uno studio pubblicato su comunica communication biologi nato venator una parola che significa cacciatore acquatico mentre polidontus significa con molti denti è stato scoperto in quella che nello studio viene definita la fonte più importante di fossili di dinosauri teropodi non uccelli in altre parole tutti quei dinosauri imparentati con i moderni volatili ma che non appartengono alla linea evolutiva che ha portato direttamente ai volatili nato venator bello nato venator sembra com'è che si chiamava ernesto sparalesto no non era lui vabbè nato venator era un dromeosauro parente dei più fenomenosi velociraptor e in particolare apparteneva alla sottofamiglia al scarap torina e ascaro ragazzi al perdonatemi ma è al scarap torina e spero di averlo pronunciato giusto ma nel caso non picchiatemi della quale il rappresentante più famoso era al scar scarap tor al scarap tor e proprio questo suo parente ci interessa per parlare di nato venator i resti che abbiamo trovato finora di al scarap tor suggeriscono che potesse essere un predatore acquatico un'idea però non condivisa da tutta la comunità paleontologica perché non abbiamo abbastanza resti da averne la certezza il fossile di scusate il bronco di rilace il fossile di nato venator è invece in condizioni eccezionali e conservato quasi nella sua interezza abbiamo quindi un'idea più precisa di che forme avesse l'animale nato venator era quasi certamente un predatore lo dimostrano innanzitutto i suoi denti numerosi e affilati ma pur essendo piumato avendo le zampe anteriori appiattiti e simili ad ali non era in grado di volare le usava invece per nuotare e tuffarsi in profondità in cerca di cibo ad aiutarlo c'era anche la forma del suo corpo la caratteristica più importante di nato venator è che le vertebre della sua gabbia toracica non erano perpendicolari al corpo come le nostre per esempio ma ripiegate verso la coda in questo modo l'animale assumereva un profilo più idrodinamico che unito al suo collo lungo e sinuoso lo rendeva perfettamente adattato per la vita acquatica o almeno per compiere regolari immersioni a scopo alimentare secondo gli autori dello studio la scoperta di nato venator è particolarmente importante è la prima volta che scopriamo un dinosauro non uccello adattato alla vita acquatica ringraziamo focus per la notizia sul nato venato e se per caso tornerà perché scoprono altri fossili o che cosa ne parleremo ancora restiamo in paleontologia ma qua siamo nel giuielli diciamo che questa potrebbe essere una notizia che piacerebbe molto a lupen per andare a capirla quando abbiamo cominciato ad osservare le prime tracce d'oro abbiamo capito subito era qualcosa di importante questo ha detto il capo degli scavi gli archeologi del museum of archeology di londra mola hanno scoperto una collana di almeno 30 perle d'oro del settimo secolo durante gli scavi nella città britannica del northampton shire sono riuscito a pronunciarlo tutto assieme sentiamo cosa dicono quando iniziarono ad apparire i primi barlumi d'oro sapevamo che si trattava di qualcosa di importante ha detto levente bench balaz capo dello scavo effettuato nell'area per la costruzione di case secondo il british museum la collana risale al periodo compreso tra il 630 al 670 dopo cristo la pietra centrale è l'elemento più grande ed elaborato della reliquia una medaglia quadrata con all'interno una croce scoperta in inghilterra una collana di 1300 anni fa senza uguali andiamo avanti a vedere inoltre il ciondolo chiamato dagli specialisti arpol triasor triasor spero di averlo pronunciato giusto comunque sarebbe tesoro in onore del luogo è stato ritrovato insieme ai resti di una donna e corredi funerari sentiamo cosa hanno aggiunto questo rinvenimento è davvero una sperta irripetibile che entrerà nei libri di testo ha dichiarato simon mortimer consulente di archeologia presso la società rps la società che ha fornito supporto per lo svolgimento degli scavi secondo la gru secondo la dichiarazione del gruppo rps le collane di quest'epoca sono state precedentemente scoperte in altri parti dell'inghilterra ma nessuna è decorata come quella di arpol il ritrovamento è di importanza internazionale e sarà dato alla nazione hanno concluso appunto questi della del gruppo rps sperando che non ci sia il buon lupen che dica no la collana ve la voglio rubare io vi dico anche quando vengo a rubarvela sto scherzando perché lupen è un personaggio inventato però non si sa mai bene stiamo sempre sulla storia la notizia l'ultima che vi ho dato sulla collana è sempre di fo no non è di focus è di scienza notizie e tutte notizie scusate il gioco di parole di o focus o scienze notizie quindi li nomino tutte e due andiamo a vedere anche quest'ultima notizia che di focus di che cosa parleremo parleremo di un papa reso celebre da dante ma ne parleremo vi spiegherò anche perché il 13 dicembre 1294 davanti al concistoro riunito a napoli dopo solo tre mesi e 15 giorni dalla sua elezione celestino quinto abbrica con una cerimonia plateale scese dal trono togliendosi l'anello la chiara e il mantello per poi rivestirsi con la tonaca della sua congregazione infine sedendosi a terra invitò il collegio a eleggere al più presto un nuovo papa per il bene della chiesa ma perché celestino arrivò a rifiutare il prestigioso ruolo il vero motivo di quello che è stato definito da dante il gran rifiuto resta ancora oggi avvolto nel mistero ma cerchiamo di fare luce sul personaggio e sulle presunte cause dell'ardito gesto immortale grazie a dante il 192esimo papa della chiesa è sicuramente più noto per le sue dimissioni che per la sua opera molti infatti lo hanno identificato col personaggio che dante nella divina commedia colloca nell'antinferno tra gli ignavi additandolo come il papa del gran rifiuto colui che fece per viltà del gran rifiuto nel gran rifiuto e probabilmente non fosse stato per gli immortali versi del sommo poeta celestino sarebbe stato dimenticato come lo sono stati gli altri papa papi medievali ma chi era celestino pietro del morrone nacque a isernia nel 1215 da famiglia contadina e si ritirò da giovane tra le montagne presi i voti divenne un monaco benedettino e poi fondò la congregazione ecclesiastica dei celestini nel 1292 moroni papa nicolò iv e dopo un conclave infinito e pieno di ostacoli peste compresa celestino quinto fu eletto papa già ultraottantenne si narra che fosse una figura mistica e umile dopo poco più di tre mesi di pontificato a causa della sua inesperienza di cose pubbliche e provato dai continui tentativi di ingerenza del re di napoli carlo secondo d'angio decise consigliato dal cardinal benedetto caetani di riprendere la vita da sceta ma la scelta di lasciare non aveva l'aria di essere definitiva applicò e torno a fare l'eremita ma portò con sé le insegne papali dopo di lui l'abdicazione di celestino lasciò campo libero al cardinal caetani che fu eletto papa alla vigilia di natale con il nome di bonifacio ottavo il nuovo papa temendo che prima o poi celestino si rifacesse vivo lo fece catturare mentre stava cercando di fuggire in grecia e lo rinchiuse nel castello di fumone in ciociaria fino al momento della morte avvenuta nella primavera del 2000 del 1296 come al solito quando si parla del vaticano eccetera ci sono sempre gli intrighetti di corte come ci sono tra i reali eccetera e quello che dovrebbe essere un posto in cui ora et labora come i francescani è diventata una cosa che va bene meglio sorvolare qualche papa ci prova ma vedendo anche quello che combina papa francesco che se ne esce con certe battutine che poi logicamente nel mondo social non restano inosservate capite benissimo che siamo uomini signori miei siamo uomini non è che il papa diventa chissà che cosa perché pa è un uomo coi semplici i suoi difetti come tutti come lo sono i campioni calcistici anche se è una blasfemia mettere il papa ai calciatori eccetera i cantanti eccetera però sono tutti idoloni per noi persone normali esseri normali umili tranquilli che fanno una vita tranquilla cercano di vivere decentemente il meglio possibile eccetera 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 va bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso andremo a fare subito l'altra notizuola spero di riuscire a far uscire questa notizia per le sette in quarto ma è inutile che ve lo dico quando esce esce comunque torniamo ai soliti orari delle call news tra le sette sette e mezza e tra le otto e otto e mezza ciao